benvenuti in kiwi ma ecco che ti dovevo chiedere allo ma ti hai portato affè? abbiamo affè no? a te la bada c'è? ti hai portato affè? non sto affermando niente è quello purtroppo di essere troppo signore a modo suo non a modo mio tu sei andato a lecce e non hai fatto conoscere qualcuno per affè? a te non ti piace il trans però però se sta qualche femmina assiduata allora ci dicono il dialetto barese ma è con i schenzoni non con l'ogno ma a me sai qua è un giudadish senza qualche femmina assiduata che vuoi fare qualche cosa tranquilla è robusta è lei e vabbè stai dando la carne stai dando la carne quindi ti piace la carne ti piace la carne stai? e come l'avevi tolta? l'avevi già buttato il pallone non è che già buttato la voce ma è tutto dentro no 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 stai a scherzare stai a scherzare stai a scherzare come è? stai più tranquillo? no cosa cazzo è che ti facessi da qua? io chiedo l'autorizzazione perché la castiglia lì si vizza la mente con le bocca e le bocca ma solo Andoni ha la mano santa e Andoni che ha la mano santa? sai che è questo? e ora sto qua ma si mi chiedevi non mi chiedevi non mi chiedevi tu devi stare tranquillo Lello perché sennò vedi che tu sei capo amato no qui è capo amato ma io sono capo baldori tu sei capo amato tu sei capo amato perché vuoi far casino vuoi divertire ma tu sei capo amato questo piange questo piange il bambino piange tu vai a chi è? ma io ho visto che qua ci sono tante altre persone qualche ragazza qualche donna c'è sta qua dentro ma gli va a canturizzi cioè non si può fare nulla gli va a canturizzi pur con gli altri ospiti gli va a canturizzi gli va a canturizzi e va a canturizzi gli va a canturizzi quindi tu vuoi uscire per far casino per andare a ballare per andare a ballare per andare a far baldoria per andare a balldoria Baldoria beh rischio discote che sei mai andato tu l ho fatto il bambino disco eh ma tu c'è un DJ Fox compi qui a smentare la mahy nella baldoria l è la dj lei l'ho dj Con capito lo chiamo tu le occhia da solo li usi che adesso le scegliei tu li usi quello sembra no lei da sta devi stare tranquillo medici mi dice la tua giornata normale c'è stato tutti alla mattina che oggi a che ore si è svegliato di mattina ti fanno alzare proprio e poi perché cazzo fa a mezzate alle 12 spaccate e scudo tutte le sei e mezza fino a mezzogiorno che cazzo fa vabbè l'anno prossimo a maggio cittadini l'anno prossimo che fa sms 35 ti svegli fanno ti svegliano se vuoi stare un po di più nel letto non but però ti fanno alzare mi sveglio normalmente perché li sento la cacca cazzo morire la cacca cazzo arrivo e quindi ti fanno alzare a tutti quanti vabbè quella regola a tutti quanti li fanno alzare vabbè ma dove vanno per la samedi a dove vanno tutti che loro vanno ci fa proprio li fanno alzare a prescina tutti quanti a dove vanno alle 6-35 massimo 7 mesi tutti quanti che hanno la sveglia dalle ossa c'è un militare ma non mi ha un militare che sei e poi che fai e che fai poi perché prima facciamo le stanze a doppie quelle stanze a doppie le hanno chiusi anche se hanno smontato la porta e hanno fatto le rotonde quindi tu sei in camera con altre persone sei da solo tu e un altro quindi manco da sola manco da singola e quindi ti alzi ti alzi e che fai poi faccio prendo il maghiato mi prendo io il caffè maglia il caffè maglia ok quando costa la macchina la macchinetta è giusto quando costa la macchina un euro la mia cuglia il caffè maglia poi che fai e poi facciamo le palline dalla mattina alla 6 fino a mezzogiorno fino a mezzo gioco facciamo gli aperitivi il primo il secondo a modo l'ora e poi ciao poi le molle 18 ma vada per i tempi ma niente di farone che ti fanno qualcosa poi dopo pranzo che fai se viene qualcuno come a me qualche come a me dei coglioni e sul primo ok poi c'è tutti gli altri però dei coglioni e sul primo vedete a me non so chi c'è sta dipende e quindi dopo pranzo che fa se me lo con stile con loco se sta un po con lui mi devo mettere per il giro ma oggi calze ma la coma a proposito avvicinati senza sentaro non sento la puzza no no per di chi non sento la puzza che che altra volta ho visto il video e quello di se da qua si fa un po parletto a cu a cui dovete l'oggi parla io non so se ora mai non sento la casualità è successa la casualità mai non sento un giro a me la procedura a me cioè dalla coppa se la scarica lui stesso a fa tutto lui a roma a roma ma si dice se la suona e se la canta e poi che fai ma c'è la cena quasi sì c'era da chi ora cenate alle 18 caro donna mie palle va davvero le alle 18 cenate ma tutte le strutture cose e fino alle 18 che fai aperitivi come ed è quando quando entra la luna quando esce ma c'è manco senza una palestra una cosa dentro proprio dici papà lei che c'è stato centrato tu per vedere come è che c'è stata napoli sono 4 pote di caldo ok a si crea c'è niente soffi la fissa tra no la fissa più scherza ma è la beve come è ciao ciao e tu non la farà però non è un po la palla in pale ma i biglietti passer tempo più che io la paese che vuole fare la palestra pericolosi ma male dai punto lo sonzie andando a far karate mi ricordo ma è fatto a che ora aveva dormire non regolato tipo più di tipo ieri sera che ora stanno a dormire a lungo la mattina ci hanno fatto dalle seghe accenato la televisione vedi la televisione la città della televisione in camera c'è la televisione il numero 26 è ancora esistono sti canali ma tu c'è la televisione in camera c'hai a tutti a quindi sta vedete la televisione in campo dopo scena che mette la televisione